Allora, proverò a prendermi un hamburger senza niente, solo la carne, vediamo se me lo danno. Finisce l'ordine e poi metto il mio. Allora. Ah, è aggiunto la Coca-Cola? Sì. Eh, ma non ti conviene fare il menù? No. Coca-Cola, cheeseburger, mix salad. Uno, due, tre, quattro. E il mio pennello? 5,40. 5,40 è il menù, eh? 5,40. 5,60. E il mio pennello va? È lì, c'è già. E mix salad? No. È a sinistra, è nell'altra pagina. Mi fai il mio panino dopo? Sì. Ah, hamburger, dov'è? Cheeseburger, carne. Ah, hai capito, aspetta. Allora, questo è il mio panino. Adesso ti cuoco il panino. Facciamo il mio, allora, il mio panino. Panino, carne. Ma salva euro? Hamburger. Quello da un euro. Ok, clicca sulla personalizzazione. Clicca sul panino. Ok, togli tutto. Due, tre, quattro, cinque. Fatto. Conferma. Aspetta, aspetta, aspetta. Mettigli un'insalata per me, che mangio anche l'insalata. Insalata quella da un euro. È lì, a destra, è in fondo a destra. All'aceto balsamico. Ok, clicca, clicca, lo lo personalizza. Clicca sull'insalata. Leva tutto. Ah no, scassavo, non si può levare niente sull'insalata. Ok. Ok. Sono io. Ok. Allora, hamburghia, toste e carote o carne e carote? L'hepimil, cosa vuoi? Toste e carote, volevo? Cosa? Hamburghia con le carote. Nessuno mi ha fatto il mio appimil. E l'ha annullato prima per sbaglio? Quindi l'ha cancellato prima il appimil, la mamma? Allora, dicca, dicca, dicca. Bimbina, bambina. Gioco per bambina. Basta, il mio è felice. Ok, conferma ordine. Aspetta, guarda se c'è... Cosa? Eh, sicuro che non ti ha messo... Perché due pimili? Eh, infatti ce l'ha già prima le pimili, perché l'ha voluto rifare? Sto giù a fare? Boh, basta, ce n'è uno. Ah, è quattro, ci vedi, signora. Scusa, ma... Ci sono un'altra pagina, se tu sfogli, si sfoglia. Hai visto? Ok, aspetta, vediamo un po' con uno. Un insalto per me, per te l'hamburguer, per me, 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 per me. Ok, conferma ordine. Alla cassa. Allora, è tutto giusto? Sì. Sì, aspetta che c'è il mio. Dov'è il mio? Il mio hamburger no tutto, vai. No pane, no cipolla. Conferma. Numero 10 siamo. E' arrivato il panino con una forchetta. Vediamo come la carne... Sì, mi hanno messo solo la carne. Uh, bella lì. Questa la metto sull'insalata. Grazie.